Il Cattolica riceve a domicilio la visita del Ronco, partita di cartello che evidenza la sottossa campagna acquista di ambito delle formazioni in ruolo da protagonisti in questo campionato, dove da una parte i giallorossi dopo un inizio di sordine e cambio tecnico stanno giovando la loro spesa estiva, il Ronco è ancora alla finestra a guardarsi. L'inizio però fa presagire il contrario, Camporesi contro il piede viene servito, prova a piazzarla, Andriani respinge, sulla ribattuta si salvi qualche modo alla difesa cattolichina. Lo stesso Camporesi poco dopo da buona posizione alza la mira. Il Cattolica risponde con un traversore di Casola raccolto addirittura di tacco da Delia per la conclusione volante, palla a lato. Il portiere Andriani invece dall'altra parte continua a fare il bello e cattivo tempo, prima si dimostra prodigioso sul colpo di testa a distanza alla vicinata di Grisolini, poi grazie a un suo rivio azzardato Semeraro per poco non provoca la beffa. Balzo del portiere giallorosso all'indietro, pallone neutralizzato e tanto di scusa accompagna il pubblico amico. Il Ronco continua a premere sull'acceleratore della bandierina in colpo di testa a Semeraro, finisce sul fondo. Altro angolo, sul versante opposto, pallone che giunge a mani, che da fuori aria trova una deviazione pericolosa ma non incide. Su un finire di tempo, ultima azione sempre da Corne, ma per il Ronco, Mordini raccoglie la sfera ma la getta alta. Squadra riposa solo 0-0, la situazione sembra non cambiare ma nella ripresa si vede un'altro Cattolica. Il Ronco si spegne alla distanza, il colpo di testa di Pasolini fa gridare a gol ma il pallone si spegne sul fondo. Delia invece prova a mirare la porta ma non trova quella fortuna deciderata, quella fortuna che invece accompagna il Cattolica tra il 58esimo e il 60esimo. Quando uno spazio di due minuti chiude il match, da Corne Pasolini fa male, ferisce con un tocco sottomisura, risolvendo una mischina di rigore andando a festeggiare con i compagni e i tifosi che lo attendono sotto la loro postazione. Neppure il tempo di festeggiare che Brighi allarga sulla destra tra persone al centro, deviato sfortunatamente nella propria porta da Ticelli per i 2-0 dei padoni di casa che volano sulle ali dell'entusiasmo. Infatti prosegue il pressing del Cattolica da calcio piazzato Cuomo alza la mira, mentre poco dopo grande incursione di Brighi ma Delia spreca l'assist dei compagni sparando addosso all'Ani. Nel finale Casieri dentro l'area tenti destra a giro, pallone fuori, all'89esimo Baillardi servito in aria spara a botta sicura ma Andreani apre il guantone e chiude la porta. Brighi infine parte in contropiede ma viene murato dall'ottimo Lani mentre a photo finish tiro insidioso di Semeraro controllato a vista d'occhio da Andreani prima che il pallone possa depositarsi sul fondo. Termina qui uno dei tanti match attesi di questo pazzesco campionato che regala belle sorprese, grosse piazze che hanno voglia di riemergere ma anche chi non ha forse più nulla da chiedere a questo torneo. Squadre come il Ronco che cercano il cosiddetto volo verso quel sogno chiamato a promozione. Rimandati gli ospiti promossi in questo caso i padroni di casa.